E' stato tradito dai social network Gaetano Guarino, 57enne di Melito di Napoli, broker del narcotraffico, arrestato in Tunisia dopo 11 anni di irreperibilità da carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli con la collaborazione del ROS Partenopeo della Polizia Tunisina. Aveva creato un falso profilo social attraverso il quale gli investigatori, dall'analisi dei post pubblicati, sono riusciti a ricostruire le relazioni e a seguirne le tracce che hanno poi portato all'arresto. Guarino, che risulta essere slegato da organizzazioni mafiose, era a capo di un gruppo criminale che si occupava di importare stupefacenti dalla Turchia verso l'Italia, passando per la Grecia, grazie a una fitta rete di fiancheggiatori distribuiti in diverse nazioni. Lo scorso aprile la procura generale presso la Corte di Appello di Napoli lo aveva condannato a 25 anni di reclusione con le accuse di traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio. Al momento Guarino, che faceva parte dell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi del Ministero dell'Interno, è in stato di arresto in Tunisia in attesa del provvedimento di estradizione.